Grazie Presidente. La riforma della politica comune della pesca è una scelta necessaria e non più rinviabile. In Europa si esca troppo e spesso si esca male. Se vogliamo salvaguardare le risorse biologiche marine, preservare l'ecosistema marino e garantire la sopravvivenza del settore della pesca, dobbiamo dare agli stock ittici sovrasfruttati il tempo di ripopolarsi. Ma oggi in quest'Aula ha prevalso per pochi voti la mia previsione di chi vuole mantenere lo status quo e continuare a condannare il nostro mare e l'intero settore della pesca a morte certa. Per questo motivo ho votato contro la relazione sulla riforma della politica comune della pesca. Abbiamo bisogno di una riforma coerente che permetta uno sfruttamento sostenibile delle risorse marine, non di un testo anacquato, senza prospettive per il futuro. Servono piani di gestione pluriannali e un calendario preciso con l'istituzione di una rete di riserve protette. Bevengano le sanzioni nei confronti di quegli Stati membri che non rispettano le regole, che effettuano controlli insufficienti, che sforano le loro quote e che non forniscono dati affidabili. Più tutela dei pesci nei nostri mari significa più posti di lavoro per i pescatori europei. Ma in quest'Aula c'è ancora chi non l'ha capito. Grazie.